All'ombra di un monte, un piccolo borgo sorge, che della Val d'Alpone fa la sua dimora. San Giovanni Ilarione, vivace e genuino. Una scorza irta di spine, un cuore dolce, nasconde. La castagna, dalla natura, è data a chi scruta il bosco. L'uva vi è incolta da ordinati filari, assaporata un acino alla volta, oppure lasciata a fermentare, per poi essere trasformata in delizioso vino. Poveri gli ingredienti, ricco il sapore, la Pé à Rà, profumo di festa. Tramandata dalla tradizione, la farina si compone in un impasto, che sapientemente modellato da esperte mani, assume le forme più fantasiose e bizzanne. E al calore dei forni, Placido si scarda. Così nasce il pane, che tutto accompagna. Così nasce il pane, che tutto dunque,? Così nasce il pane, che tutto domandolo. Così nasce il pane, che tutto è backa. Così nasce il pane, che tutto ci si tr congressa. Grazie a tutti.